Sarà presentato giovedì 29 dicembre alle 11 presso il Palazzo Municipale di Montesano sulla Marcellana il calendario prodotto dal Centro Studi e Ricerche Radici. Protagonisti di questa edizione sono gli antichi mulini perduti di Montesano, davvero molto importanti e significativi per la società dell'epoca. Le ricerche hanno infatti evidenziato che alla fine del 1700, nella fascia pedemontana che va da Arena Bianca a Prato Comune fino ai Cappuccini, risultavano in attività circa 17 mulini azionati ad acqua. Con l'unità d'Italia i mulini si ridussero a 11. La zona scelta per la costruzione dei mulini è certamente ricca di sorgenti, ma è anche quella un tempo abitata dai monaci basiliani, che avevano inciso sul tessuto socio-economico della popolazione, insegnando ai residenti il modo di mettere a coltura i terreni e di lavorare nei mulini. Sfogliando le pagine del calendario troviamo felice l'ultimi mulinari, che la comunità montesanese ricorda ha seduto al bar sempre allegro, sorgnione, pronto alla battuta, mentre intona qualche canzone. Nelle pagine successive ci sono i regolamenti e le disposizioni introdotte già al tempo degli statuti di Montesano nel XV secolo, che disciplinavano la martellata e la molitura del mulino. Completano la prima a parte due canzoni in dialetto, di cui si fa ampio uso nel calendario, conosciute e tramandate per via orale. Non manca un accenno alla letteratura, in particolare ai mulini chiusi di Rocco Scotellaro. Si tratta della rivolta dei contadini di Tricarico per la chiusura dei mulini disposta dalle autorità nel 1942, che nel calendario rappresenta l'occasione per operare un confronto tra lo sciopero di Tricarico e quello di Montesano sulla Marcellana del 1943. L'ultima pagina del calendario è invece dedicata a un classico della letteratura italiana, il romanzo d'autore Il Molino del Po di Riccardo Bacchelli. Anche per questa edizione, inoltre, il calendario sarà distribuito gratuitamente alle scuole e alle famiglie di Montesano, alle istituzioni locali e provinciali, alle associazioni del territorio e a tutti coloro che ne faranno richiesta.